Come già anticipato, Gianettro e quindi l'Avvocato Cassani, il Presidente della nostra associazione, parlerà del Codice Rosso e quindi aprirà questa nona lezione del Master in Diritto Penale della Famiglia. Vai Gianettro. Sì, eccomi qui. Buonasera a tutti. È inutile dire che il Master dell'AMIS e di studio Cataldi sta andando veramente a gonfie vele perché siamo riusciti a intercettare l'interesse di tanti colleghi, ma non solo di tanti colleghi avvocati, ma di tanti professionisti che a vario titolo si occupano di diritto di famiglia e nel caso specifico delle questioni di carattere penale e anche civile, perché il nostro Master, come voi avete visto, contempla appunto relazioni sia di tipo penalistico che civilistico, anche perché l'intreccio è inevitabile. Certamente il tema di stasera è un tema che meriterebbe un evento di sei mesi, il Codice Rosso. Un tema particolarmente complesso, una rivoluzione culturale del nostro paese, una risposta dell'Italia rispetto alle istanze della gente, rispetto a ciò che è emerso dalla Convenzione di Istanbul, rispetto a quello che è un po' l'emergenza familiare che dura da anni e che sicuramente durante la pandemia ha registrato dei picchi insopportabili. Perché proprio qualche giorno fa commentavo per una emittente nazionale che c'è stato un aumento dell'87,5% di violenze intrafamiliari reati da Codice Rosso, il 20% in più di femminicidi. Ci sono stati 1.200 violazioni di ordini allontanamento, che tra l'altro oggi costituisce un reato autonomo, e poi c'è stato un picco di separazione, circa un 30% in più in media sul territorio nazionale. Un master non è soltanto quindi una sorta di racconto di leggi, perché oggi chiunque di noi può andare su Google, scaricarsi la legge sul Codice Rosso e risolvere tutte le proprie curiosità. Un master è un momento di formazione delle coscienze, un momento di confronto. Io credo che se vogliamo iniziare a parlare di violenza di genere, violenza in famiglia in generale, dobbiamo fare, secondo me, un escursus storico importante, anche per capire chi siamo noi italiani, che cosa è stata la legge italiana in questi ultimi cento anni, sia in sede penale che in sede civile, qual è stata l'evoluzione delle leggi a tutela delle donne, partendo dal 1936 fino al 219, fino alla legge che ha introdotto il Codice Rosso. E dall'analisi attenta di tutte le leggi, tutto ciò che è stato abrogato, tutto ciò che è stato introdotto, noi possiamo avere un quadro chiaro, anche a livello culturale, del nostro Paese. Sento sempre dei rumori di fondo, cortesemente vi prego di disattivare i microfoni. Oggi ho scaricato da internet un qualcosa che riguardava i doveri delle spose fino agli anni 60, un decalogo del dovere della sposa che in buona sostanza si rifà a quello che era lo ius corrigendi dei mariti, questa potestà maritale che è sopravvissuta fino al 1975. Pensate, fino al 1975 nel Codice Civile c'era scritto che il marito era il capo della famiglia. Lo voglio leggere perché credo che bisogna anche alleggerire i master e cercare di capire a livello di costume da dove proveniamo. Allora, articolo numero uno, voler bene al marito, va beh, rispettarlo come capo, due, obbedirlo come nostro superiore, tre, assisterlo con premura, quattro, ammonirlo con reverenza, rispondergli con grande mansuetudine, tacere quando è alterato, pregare per caso il Signore, sopportarne i difetti, non consumare la roba in vanità, essere sottomessa alla madre del marito e ai suoi vecchi, questo è veramente troppo, ma anche il resto era troppo, umile e paziente con le cognate, prudente con quelli della famiglia, amante della casa, riservata nei discorsi, osservatrice dei doveri religiosi. Questo è l'Italia di pochi decenni fa. Sono precetti che tutto sommato possiamo aver letto nei testi sacri dell'epoca tra le righe di varie norme. Voi capite noi da dove veniamo, perché solo capendo da dove veniamo capiamo perché nel nostro paese purtroppo ogni due giorni una donna viene ammazzata e c'è una impennata di violenze intrafamiliari che sono soprattutto il frutto di una sottocultura nel nostro paese. Se noi pensiamo che soltanto attraverso il Codice Penale noi possiamo risolvere una questione così grave come la mancanza di rispetto verso il genere femminile, noi siamo fuori strada. È vero, noi siamo giuristi e quindi questa sera dobbiamo parlare di diritto. Ma non dimentichiamo esattamente quello che è successo negli ultimi decenni, le vergogne normative del nostro paese perché è inutile dirlo, soltanto con il varo della riforma del diritto di famiglia del 1975 la donna ha acquisito gli stessi diritti nell'ambito del matrimonio rispetto al marito. Voi immaginate che la Corte Costituzionale nel 68, una sentenza famosa, la 126 abrogava il delitto di adulterio, 559 Codice Penale. Cioè soltanto la donna di fatti veniva punita per l'infidelità coniugale. Si andava in galera, mi ricordo ancora la storia della Dama Bianca e Fausto Coppi una storia che ha riempito tutti i giornali, non solo d'Italia, ma del mondo. E così abbiamo avuto un successivo intervento della Corte Costituzionale che ha abrogato l'articolo 544 del Codice Penale. Pensate un po', era il matrimonio riparatore. Qualcosa che secondo me neanche i peggiori talebani avrebbero mai applicato. Si poteva violentare una donna e sposandola si sanava appunto questa situazione. veniva scriminato il reato e non posso dimenticare il coraggio di una grande donna come Franca Viola che nel 67, nonostante lo stupro che subì, si ribellò e decise di non sposare il proprio carnefice, creando e scatenando una rivoluzione culturale nel nostro paese. Questa grande donna è entrata a far parte della nostra storia relativamente recente, ma soltanto nell'81 questo reato è stato poi abrogato. Sono passati 14 anni dal coraggio di Franca Viola alla legge 66 del 96 che appunto abbrova anche il delitto d'onore. Noi proveniamo dal delitto d'onore, una sorta di causa di giustificazione, possiamo chiamare così, cioè che consentiva a un conio, a un marito, di poter uccidere la moglie e pagare con una pena assolutamente simbolica il proprio delitto. Stiamo parlando quindi di qualcosa che riguarda, almeno me, quando ho iniziato a studiare, quando avevo il testo di Antolisei, c'era ancora un paragrafino che parlava del delitto d'onore. Quindi è una sorta di licenza di uccidere, a tutti gli effetti. Una licenza di vendicarsi. Veniamo da questo. Soltanto poi, a distanza di alcuni anni, senza voler chiaramente fare l'elenco delle tantissime leggi che si sono susseguite, pensate che dal 46 ad oggi sono state sfornate in favore della tutela delle donne 100 leggi in Italia. Io vorrei circoscrivere il mio intervento su alcune più significative, quelle sicuramente più importanti perché più recenti. La prima è stata nel 2001, la legge 1854 che ha introdotto gli ordini di protezione. che ha introdotto quindi la possibilità, sia in sede civile che in sede penale, di intervenire e allontanare il familiare violento da casa, quasi sempre l'uomo, a volte anche qualche figlio. Pochissime volte le donne, ma statisticamente nel 99% dei casi parliamo di soggetti di genere maschile. Queste sono statistiche indiscutibili. Poi abbiamo la legge 242 del 2013, una legge che finalmente ha introdotto il concetto di femminicidio, un concetto che era già stato introdotto e contemplato nel 1990. C'è qualsiasi reatto che si basa sul fatto che dall'altra parte la vittima sia di genere diverso, in questo caso donna, quindi che si basa sul fatto che riguarda il genere. Quindi altrimenti non avrebbe senso di esistere un termine di questo tipo. Poi abbiamo una serie di leggi internazionali molto importanti, a mio parere, che hanno in qualche modo condizionato positivamente il nostro paese, perché noi già nel 1946 abbiamo avuto l'Organizzazione delle Nazioni Unite che ha stabilito appunto un primo protocollo per la tutela delle donne, che poi è stato confermato nel 67, la dichiarazione sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne, confermato poi nel 79, fino ad arrivare alla convenzione dell'11 maggio 2011, appunto la famosa convenzione di Istanbul e del Consiglio d'Europa, che è stata poi approvata dal nostro paese con legge 77 del 2013. Io credo che sia questa veramente la legge spartiacque da cui probabilmente tutti i paesi più importanti hanno preso spunto per organizzare, nel vero senso della parola, una battaglia contro ogni forma di discriminazione, perché la convenzione di Istanbul non si riduce soltanto a descrivere quelle che possono essere le misure a salvaguardia delle donne. Fa molto riferimento alle questioni culturali e religiose. La convenzione di Istanbul quindi esorta tutti gli stati a vigilare affinché le consuetudini locali, le culture, i precetti religiosi, non subirono mai le norme fondamentali di questa convenzione. Per cui qualsiasi uso e costume che tende a dichiarare la inferiorità della donna o una sua subalterità al ruolo dell'uomo, queste devono essere assolutamente radicalmente eliminate dai sistemi giuridici dei vari paesi. Perché non è possibile pensare che siccome in alcuni paesi, non faccio nomi, la donna viene considerata inferiore, si possa poi contemplare una legge che dipenda fondamentalmente da precetti culturali o religiosi. Quindi la convenzione di Istanbul sicuramente ha condizionato anche il nostro paese. E lo ha condizionato nel senso migliore perché poi c'è stata una maggiore attenzione da parte della politica rispetto al fenomeno della violenza in famiglia. Insomma, noi che facciamo diritto di famiglia e siamo dei matrimonialisti ma che siamo molto attenti al diritto penale della famiglia, non possiamo non salutare con favore la legge appunto del 2013 che ha introdotto appunto il concetto di femminicidio e il Codice Rosso. Perché il 30% delle separazioni giudiziali purtroppo è accompagnato da procedure penali, da indagini o da processi penali incardinati e sappiamo benissimo che purtroppo nel nostro paese ogni due giorni una donna viene assassinata ma c'è tanta violenza che non è riefertabile in un pronto soccorso che ci scivola dalle mani. È la violenza psicologica. Quindi quella morale, la violenza sessuale e la violenza economica. Cioè ci sono varie declinazioni di violenza. Noi pensiamo alla violenza soltanto a quella fisica, no? Nelle statistiche purtroppo emergono soltanto i dati delle mattanze ma vi posso garantire che la violenza intrafamiliare e lo posso dire dopo 30 anni di onorata carriera è molto più radicata di quanto si possa pensare. Io me ne rendo conto tutti i giorni e anche questo è un fenomeno assolutamente trasversale perché non possiamo pensare che appartenga ad una determinata regione o a un determinato quartiere. Io che opero su Roma e Milano vi posso dire che proprio nelle famiglie più insospettabili si consumano i crimini più efferati più insopportabili. E quindi il Codice Rosso si pone come una barriera rispetto a questo fenomeno che per me confermo ancora una volta rappresenta la vera emergenza nazionale. La vera emergenza nazionale davanti alla quale io credo che il paese meglio il paese inteso come lo Stato inteso come come la politica secondo me ha cercato di risolvere il problema volendo agginare il mare con un sassolino. Non è riuscito ancora questo nostro paese a dare una risposta anche alle varie condanne che ci provengono dalla Corte Europea. Cioè il problema è proprio questo. Cioè noi non riusciamo a risolvere un problema secondo me di una gravità eccezionale. Il Codice Rosso quindi è stato introdotto con appena 21 articoli molto importanti sul piano dei contenuti e delle riforme. Ma non posso non ricordare che l'articolo 21 del Codice Rosso si parla di invarianza finanziaria. Cioè in buona sostanza l'ennesima legge a costo zero. L'ennesima legge che non sposta un euro. Noi abbiamo duemila magistrati in meno nella pianta organica l'ho detto mille volte. Stanno chiudendo i centri antiviolenza. Abbiamo dato addosso cioè voglio dire abbiamo caricato i magistrati di una responsabilità perché poi la procedura contemplata dal Codice Rosso prevede una velocità di intervento che in alcune realtà distrettuali è possibile in altre realtà è meno possibile perché purtroppo avendo duemila magistrati in meno nella pianta organica voi capite benissimo che il carico di lavoro non può essere così forte per la magistratura perché il Codice Rosso purtroppo e poi entrerò nel merito della legge in molti casi si è rivelato assolutamente insufficiente sono addirittura un fallimento perché nel 54% dei casi le donne che hanno sporto denuncia prima e dopo il varo del Codice Rosso sono state uccise cioè molte volte la denuncia si è trasformata in una condanna a morte non basta più andare dall'avvocato non basta più andare in un centro antiviolenza non basta più andare a fare una denuncia alla procura o presso i carabinieri o la polizia purtroppo c'è un problema serio che riguarda la protezione post denuncia per le donne o comunque per i familiari che hanno subito dei reati da Codice Rosso il nuovo c'è una indubbiamente una maggiore attenzione in questa legge poi la vedremo articolo per articolo per le cosiddette tre P la prevenzione delle vittime quindi la prevenzione per evitare appunto reati nei confronti delle vittime la protezione della vittima subito dopo la denuncia la punizione del colpevole ma ritorno sempre al discorso di prima non pensiamo mai che la violenza in famiglia sia un fenomeno risolvibile soltanto a colpi di codice penale indubbiamente questa legge ha inciso molto sul codice penale ha inciso sul codice di procedura penale ha inciso molto sui protocolli di comportamento dei magistrati della polizia giudiziaria e infatti il testo della legge modifica il codice penale al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia delle vittime di violenza domestica e di genere quindi non si fa soltanto un discorso alla violenza di genere quindi di confronti delle donne ma si parla di una violenza domestica in generale perché chiaramente questi reati possono essere commessi anche in danno di altri componenti della famiglia in particolar modo dei figli non dimenticate per esempio che nell'ambito cioè purtroppo durante questa pandemia che tuttora mette in ginocchio il pianeta c'è stato un aumento del 35% anche di danni nei confronti dei minori ciò significa che appunto questa è una legge che serve a tutelare anche e soprattutto i minorenni ma sono state introdotte quattro nuove fatti specie criminose dal codice rosso vi ricordate il reato di sfregio che poi in effetti più che un reato era un aggravante del reato di lesioni bene finalmente adesso è stato introdotto il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso quindi l'articolo 583 quinquies punito con la reclusione da 8 a 14 anni o con l'ergassolo qualora dalla commissione di tale delitto ne consegua l'omicidio a mio parere 8-14 anni sono pochissimi per una persona che deforma il viso e uccide l'identità è l'omicidio dell'identità di una persona ma non entro nel metodo di questa pena ma io mi ricordo che lo sfregio nei confronti della donna che aveva usato ribellarsi al potere del marito è stata purtroppo una pratica molto diffusa anche dagli italiani negli anni 60 70 ci sono tantissimi film e romanzi che parlano di questo è stato un po' come la vendetta di dire tu mi lasci o distruggo il tuo volto distruggo la tua identità finalmente esiste un reato ad hoc ma fino adesso non c'era poi c'è un altro reato particolarmente orrendo che è stato riconosciuto come tale dal codice rosso che è il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate il cosiddetto revenge porn voi lo sapete che prima del codice rosso non era reato c'era un soltanto delle procedure soltanto procedure di carattere civilistico per la rimozione di queste immagini ma non c'era uno strumento penale di tutela finalmente siamo arrivati a tutelare le tantissime donne vittime di questo orrendo crimine e quindi la pena è da un anno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro il problema è che non è tanto stabilire la pena quanto stabilire l'intervento immediato sappiamo benissimo che quando c'è la diffusione di immagini sessualmente esplicite senza il consenso della vittima ci vogliono mesi o addirittura anni per rimuovere quelle immagini quindi manca un coordinamento tra autorità polizia postale e soprattutto un protocollo di carattere internazionale perché se quelle foto io le pubblico dall'estero diventa complicatissimo poi poterle rimuovere quindi questo è una forma l'ennesima forma di violenza al maschile l'ennesima forma di violenza al maschile che non è meno grave delle altre poi abbiamo il delitto di costruzione o induzione al matrimonio il nuovo articolo 558 bis codice penale vi ricordate il fenomeno orrendo delle spose e bambine ecco c'è qualcuno che ha giustificato addirittura questo fenomeno nascondendosi dietro la religione nel nostro paese non esiste più un problema di religione chiunque tu sia e fai sposare una bambina minorenne contro la propria volontà o contro la propria consapevolezza commette un reato gravissimo con la reclusione da uno a cinque anni o meglio uno a cinque anni se è maggiorenne la pena viene aumentata se si tratta di un minorenne e questo viene punito questo fatto sia se avviene all'estero se avviene in Italia sia se avviene contro il cittadino italiano sia contro il cittadino straniero questo è un elemento di grande novità molto importante poi abbiamo una nuova fattispecie criminosa il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa articolo 387 bis la pena prevista da sei mesi a tre anni è una pena che si aggiunge al reato per il quale era stata applicata la misura cautelare le misure cautelare in questo caso possono essere tre l'allontanamento dalla casa familiare il divieto di avvicinamento dei luoghi frequentati dalla persona offesa ordine di allontanamento di urgenza dalla casa familiare quindi finalmente una risposta importante da parte del legislatore che voi dovete sapere che tante volte noi abbiamo ottenuto ordini di protezione che sono stati sistematicamente violati perché non c'era una sanzione precisa importante rispetto a questi a queste misure cautelari che sono di fondamentale importanza anche se come vi dicevo prima durante la fase topica della pandemia quindi mi riprisco al periodo che va da marzo fino a giugno del 2020 ci sono stati circa 1200 violazioni di queste misure cautelari questo a dimostrazione che purtroppo nonostante il valo di questa legge la situazione non è assolutamente cambiata anzi dai dati in possesso dell'Ami i reati di questo tipo sono in costante aumento e ciò significa appunto e poi ne parleremo nel dibattito che seguirà che è molto importante investire sulla formazione delle forze dell'ordine è già previsto tra l'altro dalla legge ma bisogna farlo sul serio e soprattutto potenziare i centri antiviolenza purtroppo molti centri antiviolenza per carenza di fondi stanno chiudendo e quando chiude un centro antiviolenza non vengono potenziati i servizi sociali le forze dell'ordine indubbiamente la situazione diventa molto ma molto più grave poi ci sono poi c'è l'inasprimento delle pene dei reati preesistenti quelli che già esistevano prima quindi abbiamo il codice che prevede un inaspimento di pena per il reato di maltrattamento in famiglia che può essere contro un conigio contro un convivente o anche nell'ambito di un'unione civile non dimenticate che le unioni civili sono un matrimonio a tutti gli effetti perché pareva brutto chiamarlo matrimonio e quindi ormai tutto ciò che riguarda la famiglia riguarda automaticamente anche l'unione civile essenziale la legge 76 del 2016 per cui c'è stato questo aumento della pena fino alla metà da tre anni a sette anni rispetto ai due anni dai due anni ai sei anni precedenti ma c'è un aumento fino alla metà se il reato viene commesso in danno di una donna in stato di gravidanza o con persone di disabilità ovvero se il fatto sia stato commesso con armi inoltre bisogna sottolineare un aspetto molto importante la violenza assistita che viene finalmente sanzonata in maniera precisa dal codice rosso perché il minore che assiste alla violenza intrafamiliare viene considerato in automatico persona offesa vittima di questa violenza e purtroppo quante storie abbiamo sentito in questo periodo di minori che hanno assistito alle violenze di un genitore nei confronti dell'altro poi abbiamo un inaspimento delle penere relative al reato di atti persecutori il cosiddetto stalking cioè to stalk fare la posta articolo 612 bis del codice penale la pena è stata inaspirata quindi da un anno a sei anni e sei mesi rispetto alla pena precedente che era appunto da sei mesi a cinque anni poi abbiamo un aumento di pena rispetto ad altri reati che sono i reati di carattere sessuale quindi il reato di violenza sessuale articolo 609 bis e seguenti e in questo caso c'è un inaspimento di pena che prevede una reclusione da sei anni a dodici anni nei confronti di chiunque con minacce violenza mediante l'abuso di autorità costringa talunni a subire o compere atti sessuali inoltre viene rimodulato e e e si inaspiscono vi vengono rimodulate e si inaspiscono le aggravanti qualora la violenza sessuale sia stata commessa in danno di minore per quanto riguarda il delitto di atti sessuali con minore voglio precisare è stato previsto un aumento della pena fino ad un terzo qualora gli atti siano stati consumati con minore di anni 14 voi capite benissimo che anche da questo punto di vista ecco il legislatore doveva necessariamente fare un giro di vita perché i reati sessuali in base a quello che noi appendiamo tutti i giorni sono veramente costanti a momento con tutti i reati sessuali di gruppo che appunto prevede il codice rosso appunto la pena prevede soprattutto questo il problema attiene poi alle questioni la vera novità riguarda anche le questioni procedurali ma quante volte vengono in effetti applicate il codice rosso prevede che la polizia giudiziaria acquisita la notizia di reato debba informare l'autorità giudiziaria entro tre giorni anche in forma orale ciò per facilitare appunto la possibilità di informare la magistratura la decorrenza dei tre giorni va da quando appunto è stata scritto è stato scritto nelle registri sono indagati appunto il presunto maltrattante il termine può essere prorogato per motivi particolari quando ci sono esigenze di carattere istruttore anche a tutela della persona offesa io mi domando e dico quante volte effettivamente le procure riescono a organizzare questo lavoro e quante volte un PM può direttamente o indirettamente a mezzo poesia giudiziaria ascoltare la persona offesa dopo la commissione una presunta commissione di un fatto reato io credo che questo accada poche volte infatti ho ascoltato con grande interesse diciamo così gli interventi di alcuni procuratori i quali hanno chiesto maggiori aiuti anche maggiore comprensione per la verità poi c'è un'altra novità particolarmente importante le misure di prevenzione rispetto al reato di maltrattamenti voi immaginate che quindi anche questo reato rientra tra quei reati che possono determinare misure di prevenzione ciò significa veramente almeno da qui sta teorico la presa ad atto che i maltrattamenti in famiglia sono un reato di particolare gravità l'utilizzo poi del braccialetto elettronico c'è anche qui una questione di cui dobbiamo poi dibattere in Italia ci sono circa 4.000 braccialetti elettronici ma da quello che abbiamo saputo circa 2.000 dipendono dalla rete telefonica della realtà nella quale vengono azionati per cui molte volte se la linea telefonica non funziona il braccialetto non funziona in Italia abbiamo soltanto 4.000 quando invece negli altri paesi ce ne sono come ad esempio la Germania o l'Inghilterra 40.000 io credo che appunto dobbiamo organizzare un maggiore controllo e maggiore monitoraggio delle persone che si sono macchiate di reati di questo tipo è evidente quindi che appunto il codice rosso rappresenta una svolta ed è altrettanto evidente che io non avevo potuto rappresentare al meglio in 20 minuti tutto ciò che ha introdotto questa rivoluzione una cosa è certa come ha detto ai lavori sono ancora una volta preoccupato per quella che è la situazione nel nostro paese sono preoccupato perché probabilmente la politica è sorda la politica non intende investire fondi per quanto riguarda la lotta all'evolenza nei confronti delle donne ma la violenza intrafamiliare in senso lato credo però che da quello che abbiamo visto in questi anni c'è una maggiore attenzione è stata elevata la sticella culturale attraverso la legge di questo paese ci sono tante altre novità che possono in qualche modo che sono che bollono in pentola nelle varie commissioni giustizia del senato che possono in qualche modo potenziare ancora di più il codice rosso ma credo che il nostro debba essere un lavoro di rete il vero codice rosso lo dobbiamo attuare anche noi avvocati esistono norme tecniche deontologiche la capacità di uno studio legale di organizzare indagini difensive la capacità di interagire con i magistrati di saper parlare con i pubblici ministeri di essere veramente propositivi noi non possiamo limitarci semplicemente a depositare denunce dobbiamo essere in grado anche di dare di fornire ai magistrati degli elementi importanti vedete applicare misure cautelari e mettere poverimenti di questo tipo comunque espongono il magistrato anche grossi problemi di coscienza quindi siamo noi avvocati che dobbiamo essere i primi a essere in grado di portare gli elementi quando per esempio gli elementi che possono determinare l'adozione di misure cautelari ecco di qui la meravigliosa figura dell'avvocato penalista che Francesco Mazza incarna nel migliore dei modi la capacità di fare indagini difensive la capacità di sapersi muovere di percepire anche il linguaggio non verbale della vittima la capacità di persuasione rispetto alla vittima che la denuncia è un atto di civiltà ma bisogna anche fare in modo che avvocati magistrati il nostro sistema dia fiducia alle donne che dopo la denuncia ci sia una protezione seria perché vedete cari colleghi noi di questo dobbiamo parlare stasera diventa difficile per un avvocato convincere una donna a spoggiare denuncia se c'è una sfiducia nelle istituzioni se ogni giorno leggiamo che quella donna che aveva asporto una denuncia o che quell'uomo era già stato rinviato a giudizio per alcuni reati poi riuscita a ucciderla diventa molto difficile finisce poi che con questi master noi ci parliamo addosso parliamo di tante belle leggi ognuno sfodera il meglio di sé ma alla fine che cosa succede al di fuori di questi nostri master succede quello che vediamo tutti i giorni soltanto in ultima settimana nel mio studio ho avuto tre casi gravissimi di rilevanza penale e stiamo ancora lottando con queste donne per convincerle a denunciare e la risposta di queste donne è io non mi fido io farò denuncia poi verrò uccisa chi mi salva sarò tutelata questo è il punto quindi qui quindi l'aspetto tecnico l'aspetto deontologico l'aspetto etico dell'avvocato anche la capacità non solo di informare le persone ma di formare le coscienze ma abbiamo bisogno anche di provvedimenti veloci troppe volte la giustizia arriva a ritardo non arriva proprio troppe volte siamo vittime di una disorganizzazione globale del sistema e non lo dicono gli avvocati lo dicono gli stessi magistrati lo dicono tutte le persone che hanno un onestà intellettuale io credo che dopo una denuncia ci debba essere la massima allerta la massima protezione ma sul serio delle vittime e dei reati io vi dico questo perché poi chiaramente da matrimonialista ho bisogno di risposte certe perché quando si incardina una procedura di separazione o una procedura che riguarda l'affidamento dei minori per quelle che sono le coppie di fatto e ci sono stati dei fatti di reato particolarmente gravi noi abbiamo bisogno veramente di un intervento immediato c'è la novità del codice rosso che prevede il contatto tra il giudice penale e il giudice civile sì ma ci deve essere ci deve essere una maggiore organizzazione purtroppo questo non è avvenuto quindi non è colpa di qualcuno qui non si tratta di dire di chi è la colpa si tratta di dire questo Stato ha deciso di varare questa legge deve dare una mano agli addetti ai lavori avvocati magistrati e tutti gli altri perché altrimenti al di là delle belle parole dei bei convegni degli applausi delle targhe per i relatori noi non risolveremo nulla io credo soltanto una cosa e concludo giusto per non rubare tempo agli altri che noi uomini soprattutto noi dovemmo chiedere scusa alle donne perché soltanto negli ultimi periodi vedo una maggiore sensibilità da parte del mondo maschile dovemmo essere tutti quanti pronti a scendere in piazza come hanno fatto gli uomini a cuneo non dobbiamo far derubricare questa battaglia contro la violenza delle donne come una battaglia femminile siamo tutti noi impegnati in questa grande battaglia di civiltà perché è una battaglia di popolo io che ho una figlia femmina mi rendo perfettamente conto di quanto possa essere il mio dolore il mio disagio nel sapere che mia figlia possa essere maltrattata da qualcuno e allora io credo che questa questa nostra associazione l'ANI sicuramente per la prossima giornata che contro la violenza delle donne dovrà organizzare una marcia degli uomini e dimostrare che gli uomini sono accanto alle donne accanto alle nostre sorelle accanto alle nostre madri accanto a tutte le donne del mondo questo è l'unico messaggio che mi sento di dire al di là della questione tecnica di cui ho parlato vi ringrazio che mi sento di dire